Ciao, perché decidere di acquistare da me i tuoi prodotti di utilizzo quotidiano per te stessa, la tua famiglia, la tua casa? Prodotti come detergenti per la pulizia e l'igiene della casa, per la cura del corpo come shampoo, balsamo, bagno doccia, creme viso, corpo, profumi, make up, integratori alimentari, prodotti con aloe vera, prodotti con colostro, lactoferrina, organizzare, prenotare viaggi o vacanze. Innanzitutto perché anch'io come te ero alla ricerca di un'azienda che proponesse delle certificazioni serie che mi garantissero la qualità degli ingredienti utilizzati per questi prodotti, prodotti quindi naturali, biodegradabili, vegani e con un giusto rapporto qualità prezzo. Seconda cosa, ti affido i nostri tre cataloghi disponibili anche in pdf dove all'interno trovi tutti i prodotti essence con la relativa descrizione e il prezzo di acquisto. Insieme a questi cataloghi ti consegno il mio starter kit dove troverai 60 tester profumi suddivisi con 40 fragranze donna e 20 da uomo. In tutta tranquillità nelle mura di casa tua potrai scegliere, provare profumi, valutare tranquillamente e preparare un tuo ordine. Terza cosa, una volta che tu hai preparato la tua lista della spesa, non devi fare altro che girare un whatsapp o un messaggino a me e in circa 48 ore ti verrà consegnato il tuo ordine, consegnato direttamente da me e pagherai nel momento stesso in cui avrai il mio passaggio. Quarta cosa, ogni volta che tu acquisterai dei prodotti essence all'interno troverai un campione omaggio di uno dei tanti prodotti che essence rende disponibili. Quinta cosa, entri a far parte di diritto alla raccolta punti fedeltà. Cosa sono? È una tesserina suddivisa in 12 quadratini. Ogni 10 euro di spesa che tu farai io apporrò un timbro. A raggiungimento dei 12 timbri otterrai uno sconto del 15% sulla tua prossima spesa. Spesa che ti arriverà oltre che scontata con ulteriore possibilità di avere un timbro ogni 10 euro e quindi ricominciare una nuova per attessere appunti. Sesta cosa, avrai l'opportunità di consolidare la mia amicizia, apprezzare la serietà della mia persona ed insieme creeremo la nostra fiducia reciproca. Settima cosa, potrò infine e solo se tu lo vorrai illustrarti come dall'utilizzo dei prodotti quotidiani tu possa risparmiare ulteriormente oppure avere la possibilità di crearti una seconda entrata economica per te stessa o per il budget familiare. Ecco, io ti ho illustrato la mia visione di differenza tra l'acquisto fatto tra amiche rispetto a un acquisto tradizionale. Se a te farà piacere, contattami via whatsapp al 347 45 25 093. Sarò lieta di fare amicizia con te e di consolidare il nostro rapporto. Ciao!